Benvenuti nel mondo degli orologi Vanguard. Vanguard è un marchio francese indipendente che produce orologi da polso artigianali di lusso. Vanguard crea segnatempo esclusivamente in edizioni limitate, molto ricercate da appassionati e collezionisti. La produzione avviene grazie alla collaborazione di una dozzina di orologiai svizzeri specializzati, Infatti ogni orologio è prodotto a mano con la massima cura, utilizzando solo materiali di alta qualità. Uno dei modelli più ricercati di Vanguard è il Tempo Theory, il primo segnatempo creato in edizione limitata dal designer francese Vanguard. La cassa del Tempo Theory realizzata in acciaio zincato nero, presenta un particolare movimento delle tre lancette. La rotazione delle sfere è stata pensata per creare un insieme cinetico che mette in mostra diverse forme durante l'indicazione dell'ora. In conclusione, gli orologi Vanguard rappresentano l'innovazione e la creatività del suo designer e fondatore. I movimenti e i calibri prodotti in house rendono questa collezione limitata di orologi incredibilmente precisa e affidabile. Infatti, gli orologi Vanguard sono sempre più desiderati dai collezionisti di tutto il mondo. Grazie. 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 Grazie.